La prima litigata, no, l'ultima litigata dell'anno, abbiamo litigato con una barista convinta che fosse palematata, mi chattò malissimo, ma appena ho scoperto che era romena ce la viste pagare assai, ci disse tanti uomini! Oh, vi dico una cosa, combattete con tutti ma non con lei, le spinna vive come i pulle, come le pulle vi spinno! Una cosa, ragazzi, vi facciamo gli auguri a tutti, Natale, buon anno, Palermo è una città bellissima, viate a Boiamo, viate a Stasiccara! Ale si è innamorata di Palermo, ritornerà con dei bei progetti, però lasciando fare questo, è bello, giusto, fare le guerre o fare l'omore? Solo per l'amore! Come? Come cazzo, come cazzo le pare? Vabbè, la bippamo, e tu mi chiedi come? Periscope, l'ho fatto su un film che si chiama Quel Bravi Ragazzi c'era Periscope! Senti, non stavamo facendo i saluti a tutti i palermitani? Vabbè, noi stiamo facendo una cosa, facciamo gli auguri, diciamo sempre fate i bravi ragazzi, fate tanto amore, e via! Buon Natale! Qui siamo in Buona Compagnia, salutiamo anche qua c'è un amico nostro! Ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti! C'è lui! Chi sei? Fatti conoscere! Gennarini! Gennarini! Belle parole! E poi ci siamo noi! Buon Natale! Siamo qui a San Domenico e auguriamo a tutti... Buon Natale! E un buon anno! Buon anno! Buon anno! E un buon 2016! Basta! Insomma buon! Buon! Molto buono! Ciao!